Questo non è un principe. Cari telespettatori, questa è l'ultima puntata prima della pausa feriale di Le scelte del consumatore. La nostra trasmissione è una trasmissione di servizio che è seguita, per la verità, ne abbiamo riscontro dai contatti, dalle telefonate, dalle lettere, dagli incontri personali che riceviamo e che coltiviamo nel corso della settimana. È soprattutto però una trasmissione che ha l'ambizione di fornire una serie di dati attraverso i quali puoi dare o l'informazione o spunti di riflessione. Come sempre li articoliamo in due parti, quella relativa a tematiche di carattere nazionale e quelle di carattere locale. Faremo anche di nuovo quella che è stata apprezzata, in verità, la lettura e il commento dell'agenzia di stampa Help Consumatori e anche la lettura e il commento di quelli che sono gli atti amministrativi che si sono succeduti nella nostra città nel corso dell'ultima settimana. A farlo con me, come sempre, Ferruccio Falcone e Sabato Pisapia. E senza perdere tanto tempo partiamo appunto con la lettura dell'ultima parte della settimana riportato sull'agenzia Help Consumatori. Allora, leggiamo i titoli e successivamente li commentiamo. Allora, tutela della riservatezza, detta anche la privacy, arrivano i paletti del garante, cioè dell'autorità che sovrintende appunto alla tutela della privacy per i contatti con Google. Poi, vacanze con i figli, secondo le associazioni dei consumatori, solo per una famiglia su tre. Equo compenso su una copia privata. Le associazioni intendono preparare il ricorso al TAR anche perché alla fine, diciamo, questo eco compenso sta diventando un notevole compenso che dovrà essere versato da parte di coloro i quali dispongono di strumenti elettronici. Vodafone e Tim. Da oggi alcuni servizi diventano a pagamento, anche se di pochissimo. Ricordiamo però che anche i cosiddetti avvisi di chiamata dovranno essere pagati. Test d'ingresso per medicina. Si è saputo che sono stati riammessi subiudici, cioè sotto condizione, duemila concorrenti e tra questi anche parecchi che avevano superato, anzi si erano presentati, test di ammissione presso l'Università di Salerno. E' del solito passiccio all'italiana, ma si commenta soltanto, senza poi pensare a quelli che saranno le conseguenze di avere un sovraffollamento rispetto a quelle che sono le possibilità di fornire un servizio a coloro i quali poi dovranno vigilare sulla nostra salute. Egitto e Israele, movimento consumatori, ecco cosa fare se si annulla il viaggio. Ovviamente la tematica riguarda questa zona del Medio Oriente, ma in più in generale tutta la tematica dell'annullamento del viaggio. E poi, con Fesercenti, inizio freddo dei saldi, neanche una buona politica solo ed esclusivamente dei prezzi e un certo miglioramento della qualità fanno risalire la domanda dei consumatori. Falcone. Allora, inizio freddo dei nostri telespettatori, la notizia che i consumi stendono a ripartire è una notizia che ci accompagna ormai da tanto tempo. Il discorso è quello che abbiamo detto tante volte da questi studi, quella di incrementare il reddito disponibile, fare in maniera tale che si aumenti il reddito disponibile dei consumatori, ma purtroppo una delle cose che ci accompagna, che commentavamo Luciano a telecamere spente, è un costante aumento della spesa pubblica a livello statale, nonostante tutte quelle che sono le imposizioni fiscali e i balzelli che ci vengono propinati oramai con cadenza settimanale. Ora si parla di una nuova manovra di altri 20 miliardi di euro per aggiustare i conti pubblici, ma purtroppo è un poco come il discorso dello scolapasta, che voglia di mettere acqua da sopra, ma se non si tappano i buchi, diciamo, tutte quelle che sono le risorse vengono disperse in 100 mila euro. Bene, se non proprio per lo scolapasta, Pisa Pia, voglio dire, i buchi nel colino... Ma è l'ultima notizia che l'ho sentita stamattina a Radio 24, alla Camera, invece di... i costi non si sono ridotti, anzi, si sono aumentati di 5 milioni quest'anno e con una previsione di aumentare altri 5 milioni l'anno prossimo. Questo è, attenzione, dai documenti ufficiali usciti dalla Camera, non è che sono voci campatinari. Dunque, parlavamo prima di come eventualmente comportarsi nel momento in cui si dovessero venire a creare i presupposti per l'annullamento del viaggio. Un annullamento totale perché non è più possibile trasportare il consumatore turista dal proprio aeroporto di partenza o dalla destinazione di partenza a quella di arrivo. Oppure, allorquando, allo stesso viene proposta una destinazione diversa. Bene, i presupposti per ottenere il rimborso del prezzo e l'eventuale anche risarcimento del danno sono indicati ogni qualvolta la finalità turistica del viaggio venga meno. Questo è importante che voi, cari telespettatori, lo ricordiate. Cioè, l'esistenza nel paese dove si dovrebbe soggiornare di una situazione sociopolitica instabile e il concreto pericolo per l'incolumità del viaggiatore, che sono due elementi che devono viaggiare insieme, determinano l'ipotesi tipo della richiesta poi appunto di risoluzione del contratto, cioè il rimborso ed eventuale risarcimento del danno. Attenzione però, è necessario valutare se nella vendita del pacchetto turistico siano stati rispettati gli obblighi di informazione a carico dei tour operator e delle agenzie che devono mettere in condizione i consumatori di prendere decisioni consapevoli ed avvedute. Proprio in virtù di questo l'antitrasse ha avviato 12 istruttori nei confronti di quei tour operator che non hanno fornito le adeguate informazioni. Quindi, caro Falcone, ritorniamo sempre probabilmente su quello che è il principio fondamentale. Il consumatore è libero di accettare le proposte che gli vengono fornite, ma attenzione, al consumatore devono essere appunto somministrate, fornite, date, ogni informazione utile perché la propria scelta sia consapevole. Beh, sicuramente sì. Gli elementi che hai citato in questo momento, ricordiamo, sono elementi innanzitutto di buonsenso che sono recepiti dalla legge nel discorso del pericolo per il consumatore e l'estabilità sociopolitica praticamente delle zone. Beh, in questo momento ci sono zone del pianeta, quali l'Egitto, che tra l'altro è una delle mete turistiche tradizionali, e Israele, che purtroppo stanno attraversando un momento molto particolare, fanno sì che l'annullamento del viaggio venga fatto senza penalità per il turista, per il consumatore. Dunque, Pisa Pia, commentiamo anche questa denunzia che è stata fatta dall'Unione dei consumatori all'antitrust, e cioè, attenzione, il discorso dei prezzi cosiddetti ingannevoli. Dunque, all'Italia, dunque, nelle ultime settimane ha diffuso una massiccia campagna promozionale su cartelloni ed internet, pubblicizzando i prezzi, che erano a suo dire molto convenienti per alcune tratte. Attenzione! Solo leggendo i caratteri molto più piccoli rispetto al messaggio che viene diffuso, questi caratteri, tra l'altro, sono posti nella parte bassa del cartellone, si scoprono le reali condizioni delle offerte e quindi le restrizioni relative ai posti, le rotte e l'applicabilità per alcune categorie di viaggiatori e senza dire che, confrontando le offerte proposte con quelle realmente disponibili sul sito, si notano varie discrepanze. L'ultima è quella, un'offerta per la mezzia terme da 39 euro, laddove sul sito il prezzo indicato, a 49 euro. La Spagna non tiene conto di Valencia, la Sicilia non tiene conto di Trapani e in generale all'Italia, pur di vendere, non tiene conto delle istanze dei consumatori e anche del loro grado di capacità e incapacità di leggere le offerte. E' così, per esempio? Certo, così, riallacciandoci a quelle che si diceva prima sui viaggi, eccetera, è una questione annusa che è difficilmente il viaggiatore, il turista, riesce ad avere risarcimento. Cioè, sono tutte cose che si dicono, ma purtroppo non è che ci sono sempre i risarcimento, quasi mai. Dunque, sempre da help consumatori. Allora, G-Tech, che è un colosso italiano del settore delle scommesse elettroniche, ha comprato i casinò degli Stati Uniti. Quali conseguenze in Italia? Ferrovie dello Stato, la povertà nelle stazioni, ed è un aspetto molto importante, purtroppo interessante. Vengono assistite ogni anno almeno 25 mila persone. Ferrovie Nord di Milano, Codici, che è un'associazione di tutela dei consumatori, azione di classe, le adesioni fino al 20 di ottobre. Questo lo diciamo a beneficio dei tanti cavesi che adesso, e dei nostri telespettatori, che adesso sono in vacanza qua o sono rientrati, ma che solitamente, avendo residenza al Nord, utilizzano appunto le ferrovie Nord. limiti più rigidi per il piombo nel latte artificiale e dell'arsenico nel riso. Anche di questo si deve occupare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi, surroga, di questo ne parliamo subito con Falcone. Supermarket dei mutui. Bene, il primo semestre del 2014. Nei primi sei mesi del 2014, grazie alla progressiva riduzione degli spread offerti dalle banche, torna alla ribalta la cosiddetta rottamazione dei mutui. In particolare, il numero dei mutui erogati con finalità di sostituzione di surroga passa dal 10% del totale del primo semestre 2013 al 20% nel semestre appena concluso. Commentiamo subito questo. Sicuramente. Innanzitutto, che cosa significa sempre a beneficio della casalinga dell'annunziata? La surroga è un'operazione con la quale una banca subentra all'altra nel mutuo. In pratica c'è una sostituzione dell'ente creditore. Forse la redazione di questo trafiletto tiene conto in senso assoluto di quello che è il numero dei mutui soggetto a surroga. Ma nel nostro territorio, specialmente al sud, surrogare un mutuo è un'impresa. Potrebbe essere anche conveniente grazie alla riduzione degli spread, ma di fatto nelle nostre zone è assolutamente molto molto difficile che una banca subentra all'altra nell'erogazione di un mutuo. Queste statistiche vengono fatte sicuramente a livello nazionale, a livello macroeconomico, ma nello specifico già da Roma in giù l'erogazione di un mutuo è ancora oggi un'operazione estremamente difficile e complicata. Dunque, ti leggo l'ultimo dettaglio. Con riferimento alla tipologia di tasso preferito dai consumatori interessati a sostituire il proprio mutuo o a surrogarselo, le preferenze rimangono concentrate verso il tasso variabile e verso il tasso variabile con il CAP, che insieme spiegano, nel secondo trimestre il 75% delle richieste, seppure in calo rispetto all'82% del primo trimestre del 2014. Sono due tipologie di mutuo che sono in questo momento abbastanza convenienti, forse è più conveniente la seconda, quella col CAP, che non anche la prima, perché è previsto comunque un aumento, una ripresa praticamente dei tassi, sicuramente nel 2015 si assisterà ad una ripresa dei tassi a livello mondiale, sicuramente a livello europeo e questo comporterà anche un aumento delle rate di mutuo. Sì, però nel momento in cui si fa una surrogra attenzione a scegliere una tipologia di mutuo che potrebbe avere un limite massimo, oltre il quale il mutuo non può andare, altrimenti poi ci si troverebbe esposti a pagare delle rate assolutamente più importanti, specialmente nel caso di Muti Grossi, rispetto a quella che è la rate attualmente pagata. Dunque, passiamo a un altro argomento che tra l'altro ci è stato sollecitato da molti telespettatori e anche da vari consumatori, il blackout che hanno subito gli utenti della Wind. Dunque, si è venuto a determinare il terzo atto di questo lungo braccio di ferro tra Wind, che per la verità non è molto disponibile a dare un risarcimento, e le associazioni di tutela dei consumatori. Leggiamo un attimo. Il terzo incontro tra la Wind e le associazioni dei consumatori è, diciamo, dato fumata nera. L'ipotesi di accordo prevederebbe due categorie di rimborsi. Dunque, gli utenti con una tariffa mobile ricaricabile avrebbero un gigabyte di navigazione gratis per coloro che hanno attivo un piano dati, più un bonus del 20% su tutte le ricariche fatte nelle 48 ore successive alla richiesta di risarcimento al servizio cliente Wind. Il valore massimo del bonus è di 50 euro, spendibile entro 30 giorni dalla data dell'attivazione. Per gli abbonati alla rete mobile fissa, e cioè infostrada, invece, i rimborsi sono diversi. Uno sconto di 2,50 euro sulla prima fattura utile, quindi entro due mesi, più, ma solo ovviamente per gli utenti mobili, sempre un gigabyte di navigazione gratis. E per avere diritto ai rimborsi straordinari, si deve sporgere il reclamo direttamente all'operatore o tramite le associazioni di tutela dei consumatori. Ma non è un po' farraginoso e per la verità anche poco redditizio? Io penso proprio di sì, anzi, credo che la Wind sia proprio, come dire, pescando nel torbido proprio per allontanare i momenti dei pagamenti, dei rimborsi eventualmente. Poi, come dire, più si rimanda... E più c'è spazio anche per le cause. Abbi consumatori, Falcone. Allora, una nuova intesa per un osservatorio indipendente. viene messo in soffitta il consorzio, i patti chiari, e se ne apre un altro. Non so per quale motivo, ma lo leggiamo rapidamente insieme, tanto sono pochi richi e poi lo commenti. Non troppo chiari, effettivamente, probabilmente. Questo osservatorio raccoglie, dice al consumatore, l'eredità del consorzio patti chiari, confermando nell'attività consultiva ed inaugura una nuova fase di collaborazione tra il mondo bancario e le associazioni dei consumatori. Si legge nel protocollo d'intesa che l'Abi e le associazioni dei consumatori si impegnano a concorrere alla realizzazione degli obiettivi condivisi, ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garantire il buon esito delle attività, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, coerenza e professionalità, nonché dei rispettivi ruoli e responsabilità. Prevedere in sede Abbi incontri periodici in merito agli aspetti di maggiore rilievo affrontati nell'ambito dell'osservatorio al fine di permettere un costante aggiornamento. Mi sembra, per la verità, effettivamente. Non solo aria fritta, ma anche un po' una periodo feriale, ad un ulteriore innalzamento di quelli che sono i costi dei servizi bancari. E a proposito di banche della nostra città, salutiamo, voglio dire, diamola rivederci a Banca della Campania, che ritorna Banca Popolare dell'Emilia Romagna, diamola rivederci alla filiale di Passiano della Banca della Campania e diamo il benvenuto alla filiale di ricentro del credem. È così? Banche chiudono, banche chiudono, banche chiudono. Il mercato è sempre lo stesso. Il tempo poi ci dà la ragione circa il successo o l'insuccesso del sistema bancario. Il discorso è che gli sportelli sono stati aperti, specialmente nel nostro comune, in momenti di mercato assolutamente favorevoli. Oggi è un momento di contrazione del mercato, per cui la stessa Banca della Campania, con tristezza a cui dobbiamo dare la rivederci, se non altro perché sono altri posti di lavoro che vengano in qualche modo persi, anche se non c'è taglio di forza lavoro in questo momento, però comunque sono posti disponibili che vengono un attimino a mancare. Giuseppe? Nell'ambito bancario. Qualcun'altra domanda? Per gli utenti di queste banche, resta tutti invariati, non c'è nessun rischio, no? Una domanda è faccia poi tecnici di queste... Rischio no, cambiano soltanto la localizzazione dove teneva il conto corrente, i conti vengono migrati su un'altra filiale, non cambia niente a livello di condizioni economiche. Per i clienti ovviamente la nuova banca è lo discorso competitivo e quindi ogni banca poi ha una sua politica di prezzo che si riflette poi sul successo della stessa. Allora, altri due aspetti che ci sono stati evidenziati dalla redazione di Help Consumatori che leggiamo rapidamente. Il primo è questo, prestito ipotecario vitalizio. È una nuova forma di finanziamento e sono state stilate, sono state redatte le note nell'accordo tra l'ABI, cioè l'Associazione Bancaria dei Consumatori. Dunque, che cos'è il prestito ipotecario vitalizio? E poi lo commenteremo nel senso che ce lo spiegherà Falcone e lo commenterà Pisabia. È un'alternativa alla nuda proprietà, ma non comporta la perdita della proprietà dell'immobile e stiamo parlando del prestito ipotecario vitalizio. La nuovità consiste nella possibilità per i proprietari di casa con più di 60 anni di stipulare un contratto con una banca o con una società finanziaria per un finanziamento garantito dall'ipoteca iscritta sulla casa. Il provvedimento ricevisce le proposte avanzate dall'ABI e dall'Associazione dei Consumatori e potrebbe interessare una platea addirittura di circa 10 milioni di italiani e se anche lo vogliamo verificare al 50% arriviamo a 5 milioni di italiani. Il finanziamento erogato è pari a una parte del valore di mercato della casa, stabilito con una perizia e può essere speso per le esigenze dei proprietari, consumi, spese rilevanti, integrazione del proprio reddito senza che i proprietari debbano lasciare l'abitazione. L'ABI esprime una soddisfazione per il provvedimento eccetera eccetera. Allora, ce lo spieghi rapidamente e poi l'ultima sessantenne ce lo commenta. Il funzionamento dovrebbe essere, parlo dovrebbe perché il condizionale in questa situazione è d'obbligo, stante la continua modifica di alcuni aspetti, degli aspetti contrattuali. In effetti il cittadino, il pensionato cede alla banca, diciamo il 50% del suo diritto, in un certo senso comprime quello che è il suo diritto, stipulando un contratto con garanzie ipotecarie. La banca si impegna ad erogare mensilmente oppure in un'unica soluzione una somma predeterminata. Il discorso qual è? Che nel momento in cui il pensionato, l'ipotetico pensionato, consumatore che sia, passerà a miglior vita, rimarrà agli eredi la proprietà di un bene ipotecato per il quale la banca avrà un debito residuo e coloro se volessero mantenere la titolarità e la proprietà del bene dovranno rimborsare alla banca il valore che la banca stessa ha anticipato a colui che ha stipulato il mutuo, il mutuo, il contratto in vita. È un ulteriore tentativo questo da parte del sistema bancario di mobilizzare quello che è l'ingente patrimonio immobiliare in capo ai consumatori. Il discorso però qual è? Che si corre il rischio di scatenare nel momento in cui ci sarà la realizzazione, quindi le banche dovranno rivenire in possesso di quelle che sono le somme anticipate un contenzioso enorme perché non sempre gli eredi avranno la possibilità di restituire alla banca quello che il pensionato ha consumato in vita, non solo, ma ci sarà anche la necessità di andare a vendere, quindi il mercato sarà inondato di questi beni praticamente per far entrare le banche. Le banche dal canto loro saranno un grosso affare perché a fronte di somme abbastanza basse, parliamo del 50% di valore di mercato, loro non sopportano tutti i costi di quello che è un'esecuzione immobiliare nell'immediato, non solo, ma non sopporterebbe i costi neanche di quelle che è la gestione del patrimonio immobiliare che rimangono in capo al pensionato. Il tuo punto di vista? E poi leggeremo quelli che sono i punti più importanti. Il mio punto di vista è che al momento, attualmente, si mette liquidità sul mercato, si fa in modo che la gente possa spendere per andare a fare turismo, per altre cose, non ha importanza, che possa spendere ed è un bene. Il guai è che purtroppo ai posteri poi rimane quello che poi viene goduto oggi, rimane ai posteri. Questo è il problema. Al momento è un bene perché si mette liquidità sul mercato. Poi di domani non c'è certezza, diceva un certo signore 500 mila anni fa. Quali sono appunto le bozze? Allora, innanzitutto quota massima di rimborso del credito, il valore del debito da rimborsare non può essere superiore ovviamente al valore ricavato dalla vendita dell'immobile in garanzia. In questo modo si eviterà che l'anziano, il lottario lascia ai suoi eredi un importo da restituire superiore a quello ricavabile dalla vendita. Due, garanzia di cointestazione. Il principio reclama l'attenzione sull'opportunità che entrambi i coniugi sottoscrivano il contratto, indipendentemente da chi sia la proprietà, anche a tutela del coniuge che rimarrà in vita rispetto a quello che sarà poi morto. Poi, periodo di riflessione a favore degli eredi. Il principio si fonda sul prevedere un significativo periodo di riflessione, che probabilmente sarà superiore all'anno previsto adesso dal codice per poter indicare il cosiddetto beneficio dell'inventario, a favore degli eredi per la gestione della vendita dell'immobile. In altri termini gli eredi avranno tre possibilità. vendere l'immobile improprio, restituirlo alla banca o rinegoziare con la banca un'eventuale dilazione di quello che è il mutuo residuo o eventualmente valutare una ipotesi di surroga o sostituzione del mutuo con un'altra banca. Le nostre informazioni riguardanti poi la realtà locale riguardano poche delibere di giunta che sono state approvate in questi ultimi giorni e sono praticamente ricorsi al Tar Campania, il torneo di Buraco sotto le stelle nel periodo luglio-agosto 2014, un'ingiunzione di pagamento che il Comune di Cava dei Tireni ha subito dal sole 24 ore, probabilmente per non aver pagato delle inserzioni fatte su questo glorioso giornale. L'intitolazione delle strade al Caporal Maggiore Pasquale Capone, alla professoressa Maria Casaburi e al commendatore Gaetano Avigliano, in questo caso sollecitiamo però i nostri amministratori ad evitare le duplicazioni, nel senso che se c'è già, come risulta, una via a Casaburi, alla professoressa Maria Casaburi sia intitolata un largo, una piazza, un corso, ma non una via. Questo per tre motivi, a vantaggio degli ufficiali giudiziari, dei postini, dei medici fiscali e anche di coloro i quali usano il navigatore. Non vorremmo trovarci in caso di ormonimia a che gli utenti del sistema del navigatore poi vadano a richiedere esercizi pubblici presso case private, proprio perché c'è un caso di omonimia. Ci sono poi altre, diciamo, delibere che però riguardano per lo più, sono proposte transattive per l'esercimento del danno e concludiamo anche con la bolletta, le fatture che in questo periodo lausino SPA, il quale è l'ente che è subentrato al Comune della gestione dell'acquedotto, sta inviando ai nostri consumatori. Attenzione, quello che noi diciamo sempre a voi è di dare un'attenta lettura a quella che è la bolletta e soprattutto verificare nella seconda pagina quello che sono non solo le tariffe, in modo tale da poter anche verificare quello che sono il passaggio dalla tariffa agevolata all'eventuale eccellenza, ma soprattutto il dettaglio dei consumi dell'utenza. Pisapia, un tuo rapido commento prima di salutare i nostri telespettatori. Io speriamo che la bolletta sia ben chiara, limpida, in modo che tutti la possano capire, non solo gli specialisti in su, trasparente, non solo gli specialisti e soprattutto che sia sui consumi reali o perlomeno i contratti fatti dagli utenti. Bene, nell'esempio che noi abbiamo in questo momento in mano e bene diamo, diciamo un attimo le indicazioni, risulta per esempio che la lettura sia calcolata e non quella effettivamente fatturata. Il che significa che naturalmente vengono elaborati con dei consumi standard e poi, signori cari, se non si fa la cosiddetta autolettura, peggio per chi non la fa, secondo i principi dell'ausino, perché in questo caso si continua a pagare molto di più in acconto in attesa poi della fatturazione di conguaglio. La bolletta sta specificata come si fa l'autolettura e quanto bisogna chiamare per dare l'autolettura? C'è, ci sono le indicazioni e ovviamente invitiamo i nostri telespettatori a seguirle. Bene, a questo punto io invito i nostri amici anche a salutare, come faccio io, i nostri telespettatori ringraziandoli per l'attenzione che ci hanno prestato nel corso di questo lungo ma profico anno televisivo, augurando loro per quanto possibile un sereno periodo di riposo, periodo feriale e naturalmente dandola rivederci al prossimo mese di settembre, allora quando riprenderanno le trasmissioni regolari delle scelte del consumatore. Ferruccio Falcone. Bene, l'occasione è gradita per salutare i nostri telespettatori con buone vacanze e l'augurio è che al ritorno troviamo una classe politica più responsabile, in maniera tale che si possa arrivare ad una rimodulazione di tutte quelle che è l'enorme monte di spesa pubblica a beneficio dei consumatori al fine di garantire loro un migliore tenore di vita e qualità della vita stessa. Sabato Pisa Pia. Io ringrazio tutti i telespettatori che con tanta pazienza ci hanno seguiti, li invito a seguirci ancora a settembre e faccio ancora un altro invito, breve breve, siccome è quello che ha detto il dottor Falcone o dopistica, trovare una classe più responsabile, invito i telespettatori ad essere loro più responsabili e a segnalarci tutte le eventuali anomalie che trovano nella nostra città. Bene, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona prosecuzione con le nostre trasmissioni. Questo non è un principe.